Coppa! Balcone delle Marche! Stifo 20, ancora la prima giornata, questo è un grande big match, quello tra Alessandro Storoni e Renato Zanelli, con Alessandro Storoni a controllare il Barcellona e Renato Zanelli invece che sta controllando il PSG. Parliamo della prima giornata del girone A, con il Barcellona in maglia gialla e il PSG in maglia bianca. L'errore del Barcellona può ripartire, allora Verratti in contropiede e non trova nessuno. Ci arriva Ter Stegen che controlla, va verso un TD, un TD per Vidal, Semedo, Semedo per Dembélé, Dembélé ancora verso Vidal, De Jong, trova Jordi Alba, Aldi Alba in profondità verso Arez, respinge la difesa ma ancora pallone per il Barcellona che sta tenendo palla. De Jong, Alba, Messi, De Jong, Vidal, Vidal verso Suarez, intervento di Thiago Silva, allora può ripartire il PSG con Gueye, verso Mbappé, Mbappé si gira, torna da Marchinhos l'indietro per Thiago Silva, ancora Marchinhos, Marchinhos per Gueye, Gueye verso Di Maria, Di Maria per Verratti, ancora Di Maria, Gueye. Mbappé, Mbappé entra in aria, fa tutto da solo, deve tornare indietro perché non trova spazi, ancora Mbappé, torna da Meunier, Meunier, interviene la difesa del Barcellona e può ripartire con Messi, Messi, verso Griezmann sulla fascia sinistra, Griezmann da solo, arriva fino in fondo il passaggio verso Messi, il tiro, la parata, questa volta da parte di Taylor Navas. Ancora palla però dal Barcellona con Arturo Vidal, Vidal verso Suarez che prova la rovesciata, nulla di fatto, ci arriva Navas, allora può ripartire il PSG con Griezmann, con Mbappé, Marchinhos. Marchinhos, Marchinhos verso Gueye, Gueye verso Di Maria, Di Maria per Verratti, Verratti verso Bernà, sbaglia Bernà, allora può ripartire il Barcellona con De Jong, Verso Griezmann in velocità, ma Griezmann deve girarsi, prova in profondità, non ci arriva Gueye e non ci arriva il Barcellona, allora può ripartire ancora la squadra parigina con Bernà, verso Neymar, Neymar, Neymar arriva in fondo, troppo lungo, rimesso dal fondo. Si riparte da Ter Stegen, vede Giordi Alba, di testa verso Lengle, Vidal, dall'altra parte c'è Semedo, Semedo di prima verso Dembélé, ancora Semedo, sbaglia passaggio orizzontale, qui Icardi riesce a intervenire, allora riparte Mbappé, sbaglia anche Mbappé, tanti errori in questa fase della partita, le due squadre si stanno studiando, Verratti per Bernà, prova il numero, non gli riesce, però la palla rimane lì, Verratti, Tago Silva ancora per Verratti, Verratti per Bernà, Verratti verso Di Maria, Icardi, Neymar torna indietro, ma c'è fuori gioco la parte di Neymar. Si riparte con il calcio di punizione per il Barcellona, De Jong, Jordi Alba, ancora da De Jong, Lengle, Umptiti, ancora per Lengle, Lionel Messi, De Jong, Lengle torna indietro, possesso palla del Barcellona, Tiki Taka classico, Griezmann, Alba, Lengle, ancora per Jordi Alba, verso Griezmann sulla fascia, Griezmann al centro verso Suarez, Suarez deve tornare indietro, ma c'è De Jong, interviene Di Maria, fa ribartire il PSG da Marquinhos, Tiago Silva, Tiago Silva per Gueye, Gueye verso Meunier, Meunier per Gueye, superata la metà campo, Di Maria, verso Icardi, Icardi si deve tornare indietro, non trova spazi, Vede Di Maria, prova il tiro, poco sopra la traversa, 0-0, bella partita di studio, siamo al 33esimo, le squadre ancora ferme sullo 0-0, Un'occasione per parte, per entrambe le squadre, Neymar, Semedo, Semedo, prova sulla fascia, passaggio verso Dembélé, Dembélé, arriva fino in fondo, Temporeggia, prova il passaggio, non ci arriva, allora può ripartire il PSG, Verratti, Verratti verso Neymar, Neymar prova il passaggio lungo verso Mbappé, che ci arriva, Mbappé, supera il difensore, Meunier, torna indietro, non sa chi darla, deve tornare indietro, si allunga la palla ma riesce a rimanere in campo, Meunier, Gueye, Verratti, Verratti per Di Maria, Di Maria torna indietro perché è chiuso da De Jong, De Jong, Gueye, Bappé, verso Meunier, Meunier, torna indietro, passaggio verso l'errore, qui non riesco a finalizzare il PSG, poi un tiro dalla fascia che non impensirisce Ter Stegen, Poi ripartire il Barcellona, Griezmann, De Jong, dall'altra parte c'è Semedo, Semedo per Dembélé, Dembélé torna indietro ancora dove c'è Semedo, Vidal, Vidal per De Jong, De Jong, Prova a fare tutto da solo, aspetta De Jong, poi vede Griezmann, ancora per De Jong, De Jong, verso Suarez, Suarez, in aria per Messi, ancora verso Suarez, il tiro, la parata, e ancora sulla ribattuta, incredibile, Navas, doppia parata, poi un difensore è riuscito a deviare in corner, ma ancora seguiamo il calcio d'angolo che però non viene finalizzato dal Barcellona, Finisce così il primo tempo sul risultato di 0-0 tra Barcellona e PSG, Alessandro contro Renato, eccoci di nuovo per il secondo tempo di questa partita tra Alessandro e Renato, quindi Barcellona contro PSG, la palla adesso è, dopo il calcio d'inizio per il PSG controllato da Renato, palla verso Neymar, Neymar va sulla fascia, prova a involarsi, ancora Neymar, prova a partire da solo, c'è l'opposizione di Semedo che mette rimessa laterale, non sa chi darla a Neymar, sbaglia poi la rimessa, allora può ripartire a Barcellona con Semedo, Messi, Vidal, sbaglia il passaggio, riparte i gardi, i gardi verso Di Maria, Di Maria all'indietro per Gueye, Gueye sulla fascia destra dove c'è Meunier, Meunier prova, supera, entra in aria, deve tornare indietro, Possesso ancora di Meunier, Meunier, Mari esce a resistere Jordi Alba, e allora può divertire Barcellona con Dembélé, Dembélé verso Griezmann, Griezmann subito per Messi, Lionel Messi ancora per Griezmann, tutto di prima, Griezmann per Dembélé, Dembélé di prima verso Suarez, controlla Diago Silva, torna all'indietro per Navas, Navas tremporeggia, aspetta che salga, Il difensore per poi, l'attacante per poi spazzare, poi qui di testa, il Barcellona non riesce a salvare questa palla dalla rimessa laterale, Meunier, Meunier per Gueye, Gueye per Riccardi, Riccardi di prima verso Verratti, L'intervento di Semedo sempre, a spazzare ogni dubbio, Suarez, supera per Dembélé, siamo subito dall'altra parte, Dembélé subito per Messi, 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 il tiro, la parata di Navas, e quindi spazza il PSG, occasionissima per il Barcellona, che continua comunque ad attaccare, Messi, verso Griezmann, Griezmann in aria, il tiro, e questa volta la palla finisce in rete, Griezmann porta il Barcellona in vantaggio, 1-0, una triangolazione con Messi, Fulmina, e la palla è entrata in rete, al 58esimo, questa bellissima partita tra due grandi giocatori, si riparte, dopo il gol del Barcellona, ora il PSG dovrà rimontare per continuare l'avanzata in questo torneo, e provare a portare a casa un punto che sarebbe fondamentale, Icardi, Icardi fa tutto da solo, c'è l'intervento di Jordi Alba, e poi c'è il fallo, punizione per il PSG, alla battuta andrà Kylian Bappé, Bappé vediamo, cambia la battuta ancora, Neymar verso Bappé, Bappé non riesce a superare De Jong, allora riparte Barcellona con Dembélé, Dembélé per Jordi Alba, Alba per Dembélé, Dembélé per Griezmann, Griezmann sulla fascia, torna verso Lionel Messi, Messi, dietro per De Jong, De Jong dalla parte dove c'è Semedo, riesce a recuperare Neymar, all'indietro per Bernat, subito per Di Maria, Di Maria, controlla, vede dall'altra parte c'è Mbappé, Mbappé però, l'intervento di Jordi Alba che fa ripartire Barcellona, Suarez subito per Griezmann, Griezmann ancora per Suarez, Suarez controlla, ma Stiavo Silva provvidenziale, fa ripartire il PSG, Verratti, Neymar, Neymar non riesce a controllare al meglio, però qui c'è l'errore della difesa, allora Riccardi parte in contropiede, Lenglet riesce a intervenire, una partita comunque ancora molto tirata, Semedo, Messi, Messi vede Arturo Vidal, Vidal verso De Jong, poi per Jordi Alba, Dembélé, Dembélé per De Jong, ancora Dembélé sulla fascia, Dembélé su Arez, Suarez di tacco verso Griezmann, ancora verso Suarez, tutto di prima Messi, Suarez, il tiro, Taylor Navas mette in calcio d'angolo, altra grande occasione per il Barcellona per raddoppiare il vantaggio, attenzione De Jong da fuori, Navas con sicurezza, riparte il PSG, Mniew, ma c'è un TT che recupera il pallone dalla traquarti, subito una idea per Dembélé, Dembélé una finta, due, Messi, Lionel Messi, 2-0, 73esimo minuto, il Barcellona va a più due, dopo una partita comunque equilibratissima, tra due grandi giocatori fiffamenti, bellissimo gol, Rivediamolo qui, il tiro di prima di Messi, ricevuto il pallone e la messa dentro, ora è difficile per Renato rimontare, ma sappiamo delle sue qualità a questo gioco, e non abbiamo dubbi che cercherà di lottare fino alla fine, ancora il Barcellona prova in avanti, erona il passaggio del PSG, allora può ribartire il Barcellona con Messi, nulla di fatto, la difesa respinge, Tiago Silva verso Verratti, Verratti verso Meunier sulla fascia destra, prova a partire Meunier, subito in profondità verso Di Maria, Di Maria, entra in aria, resiste Jordi Alba, la palla rimane lì, Jordi Alba però respinge, allora può ribartire De Jong, De Jong verso Dembélé, Dembélé per Messi, Messi di prima non arriva ad Ansufati, appena entrato, però la palla rimane lì, Messi per Dembélé, Ansufati, fatti, il tiro, la parata, questa volta da parte di Navas, occasione per il 3-0 per il Barcellona, al 79esimo e 39 secondi, in questo istante, respinge lì all'angolo, Navas, c'è un titì, la palla va all'inglè, l'inglè per Vidal, ma riesce a intervenire Marchinhos, che fa ribartire il PSG, verso Di Maria, Di Maria sulla fascia, ancora Di Maria, torna indietro per Meunier, Meunier, Bappé, Cavani, Cavani va verso Di Maria, Di Maria per Bappé, Bappé torna indietro, respinta dalla difesa, Di Maria, la palla rimane lì, un rimpallo ancora, il gol, da parte di Di Maria, un gol un po' fortunoso, diciamo, ma è arrivato per il PSG, rivediamolo, ci sono state una serie di rimpalli tra i portieri e i difensori, e Di Maria è stato più lesto di tutti, ed ha accorciato per Renato, 2-1, si riapre la partita a 5 minuti dal termine, vediamo adesso quale sarà la reazione del Parcellona, Fati, torna indietro da Semedo, Semedo per Vidal, Vidal verso Umtiti, Umtiti per Semedo, Semedo ancora verso Ansu Fati, Ansu Fati, torna da Semedo, Semedo per Vidal, Vidal per Dembele, Vada de Jong di prima verso Messi, Messi in aria, vediamo, finta, torna da Griezmann, Griezmann, Antoine Griezmann, 3-1, grandissima azione, e il Barcellona la mette in ghiaccio, bellissima questa azione di Antoine Griezmann, anche con Messi, è stata veramente un'azione bellissima, manovrata, che ha portato Alessandro sul 3-1 contro comunque un Renato che ha lottato fino all'ultimo e che l'aveva riaperta a 10 minuti dalla fine, rivediamolo, qui il tiro di Griezmann dopo quello che aveva fatto Messi, che comunque ha fatto una giocata di altissimo valore, 3-1, quando mancano ormai pochi secondi, inizia adesso il recupero, due minuti, palla del PSG, Cavani, Cavani sbaglia il passaggio, allora può ripartire il Barcellona all'Engle, Dembele verso Ansu Fati, fallo, fallo da parte del Barcellona, si riparte con il PSG che però sbaglia il calcio piazzato, spazza anche qui il Barcellona, si ritorna da Navas, ma ormai finisce qui, il Barcellona batte il PSG 3-1, Alessandro conquista i primi suoi tre punti del torneo.